L'ultimo viaggio in Scozia della Regina. Alle 11 della domenica mattina il feretro della sovrana scomparsa giovedì a 96 anni è partito dal castello di Balmoral con destinazione il palazzo di Olly Rood House a Edimburgo, una residenza reale in Scozia. Il viaggio durerà 300 chilometri e 6 ore. Il carro funebre accompagnato da un corteo di auto attraverserà diverse città scozzesi, Aberdeen e Dundee in particolare, e le contee fino a giungere nella capitale della Scozia. Lungo il percorso ci sono già migliaia di persone ad attendere il passaggio della regina Elisabetta. Da Edimburgo martedì il feretro verrà trasportato in aereo a Londra, dove verrà esposto per quattro giorni a partire da mercoledì a Westminster, il funerale previsto per lunedì 19 settembre.